Furto in abitazione a Fano compiuto ieri alle 18.15 del pomeriggio. A dare l'allarme è stata una telefonata al 113 segnalando rumori sospetti provenienti da una villetta indipendente situata in via Verga, zona Flaminia. La squadra volante è arrivata tempestivamente sul posto e i due agenti si sono posizionati rispettivamente da un lato all'altro del perimetro della villa, bloccando e arrestando il ladro. Si tratta di un 19enne italiano di origine albanese senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine per numerosi reati contro il patrimonio. Nonostante la sua giovane età il ragazzo era entrato nella villetta sfondando a calci la porta della taverna e notando all'interno che i proprietari non erano presenti ha iniziato a rovistare nei vari ambienti. Disturbato da alcuni rumori ha rubato una bicicletta con uno scatto fulminio e si è dato alla fuga in vano. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato. Nel pomeriggio si è svolto il giudizio direttissima che ha convalidato l'arresto condannandola a due anni di reclusione e 600 euro di multa. La sera precedente è stato fermato dalla volante sempre nel quartiere Ballato mentre si aggirava tra le auto parcheggiate con una torcia in mano. A seguito di una perquisizione personale gli agenti hanno trovato addosso oggetti rubati, anche se di poco valore, riconsegnati subito ai legittimi proprietari.